che prevede l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Da quando, ricordato la legge pugliese, spiega Amati, è stata avviata una campagna squadrista Novax sulle mie pagine social. Un giornale addirittura mi ha additato come fascista. Uno strano paese d'Italia ha commentato diventi fascista perché difendi le libertà previste dalla Costituzione in campo sanitario assegnate a regime di legislazione concorrente allo Stato e alle regioni come sottolineato dalla Corte Costituzionale proprio sulla legge pugliese. Ma io non ho paura, conclude Amati, e difenderò colpo su colpo l'utilità della vaccinazione. Intanto fervono i preparativi per la cerimonia militare di venerdì prossimo. Città blindata, limitazioni al traffico per l'arrivo del Presidente della Repubblica, Mattarella. Roberto Maggi. Il grande palco sul lungomare è già pronto. Un'ordinanza d'occo con le limitazioni al traffico per una città che si preannuncia blindata. Bari si prepara alla cerimonia commemorativa del giorno dell'Unità Nazionale della Giornata delle Forze Armate alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Neoministro della Difesa, Guido Crosetto, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Dragone. Si partirà dal Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare per la prima parte alle ore 11, con la resa degli onori militari a cui faranno seguito gli onori ai caduti, la deposizione della corona da loro, la lettura della preghiera dei caduti e la firma dell'albo d'onore da parte del Presidente della Repubblica. La cerimonia proseguirà alle ore 11.30 sul lungomare Nazario Sauro di Bari, con la sfilata in parata dei reparti militari, il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale, con le frecce tricolori che dovrebbero passare per due volte sui cieli di Bari e il lancio dei paracadutisti. Le navi della Marina Militare dovrebbero far esplodere 21 colpi, le cosiddette salve di onore, per salutare il Presidente. La cerimonia non sarà però aperta al pubblico, non sarà semplice la gestione del traffico, tutto il tratto interessato dal passaggio da Via Gentile fino al lungomare sarà interdetto. Di fatto il flusso delle auto sarà dirottato, principalmente sull'estramurale Capruzzi. E adesso andiamo con le notizie dal nostro sito www.telebari.it Ci colleghiamo con Italo Cinquepalmi. Italo, buonasera. Buonasera Alessandra. E allora una tredicenne sarebbe stata segregata e violentata da tre ventenni in un garage alla periferia di Cerignola. Sarebbe accaduto la sera dello scorso 28 ottobre. Il giorno seguente la ragazzina avrebbe raccontato l'accaduto dei genitori che hanno sporto denuncia alla polizia. A quanto si apprende la tredicenne sarebbe stata tirata con una scusa nel garage da uno dei tre sospettati e poi sarebbero intervenuti gli altri due ragazzi. E andiamo avanti. E lì soccorso salva vita per un piccolo di due mesi. Il neonato è stato trasportato d'urgenza ieri pomeriggio da Foggia al Policlinico di Bari dall'elicottero del 118 per una grave alterazione metabolica in grado di mettere a repentaglio la vita stessa del bambino. Il piccolo paziente è stato successivamente trasportato e stabilizzato nel reparto di nefrologia pediatrica del Giovanni XXIII di Bari dove adesso è ricoverato e sta meglio. E chiudiamo un cartello posizionato all'ingresso del negozio per dire a tutti i clienti che l'attività è gestita da baresi doc Noi siamo italiani, non cinesi recita l'avviso stampato su Foglio A4 e affisso all'ingresso di un negozio di elettronica del quartiere San Pasquale di Bari fotografato da qualche cliente lo scatto è stato aditato come esempio di discriminazione a chi ha chiesto spiegazione il titolare avrebbe raccontato di volersi distinguere dalla vicina concorrenza Bene, con questo è tutto per oggi a te, buona serata Grazie Italo Andiamo avanti e parliamo di Caro Bollette A giorni il Comune di Bari presenterà il primo vero piano per la riduzione dei consumi Intanto in giunta è stata approvata la delibera per l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali Serena Russo Riduzione dei consumi energetici degli uffici e dell'edificio a uso non scolastico e non residenziale attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici sulle coperture Il Comune di Bari individua le prime zone in cui procedere e le fissa nero su bianco nella delibera approvata qualche giorno fa in giunta e che insieme ad altri accorgimenti andranno nella direzione di un concreto risparmio A giorni, fa sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Galasso sarà infatti presentato il primo vero piano di riduzione dei consumi un piano frutto di due mesi di lavoro e che conterà numeri e dati specifici sul capologo pugliese E si parte con questa delibera un primo livello di progettazione in realtà che consentirà di sviluppare progetti creati ad hoc sugli edifici più energivori 500.000 euro l'importo iniziale previsto per un primo screening che riguarda immobili disponibili e suscettibili di questo tipo di installazione Si tratta della sede del primo municipio in via Trevisani per una superficie disponibile di 142 metri quadri della sede del terzo municipio in via Ricchioni 180 metri quadri della ripartizione del personale in via Ballestrero la ripartizione anagrafe in largo Fracca Creta il comando della Polizia Municipale in via Aquilino E parliamo di inflazione perché anche gli ultimi dati Istat mettono in allarme anche in Puglia i prezzi salgono e in qualche modo si prova a porre un'argine Sentiamo Più 12% rispetto allo stesso mese dello scorso anno Per trovare un dato così alto dell'inflazione bisogna tornare indietro al 1984 I dati Istat resi noto lo scorso sabato su scala nazionale delineano un quadro preoccupante sull'aumento dei prezzi La forte accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve soprattutto ai prezzi dei beni energetici la cui crescita passa da più 44,5% di settembre a più 73,2% per ottobre sia quelli regolamentati da 47,7% a più 62,1% sia non regolamentati da 41,2% a 79,5% In misura minore invece salgono i prezzi dei beni alimentari da più 11% a più 13,1% sia lavorati sia non lavorati e degli altri beni Rallentano invece i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona sempre in crescita da più 5,7% di settembre a più 5,1% Su tutto sta cambiando anche sui prodotti su diciamo la merce anche che non se ne trova c'è tutto Ci sono dei prodotti in particolare che risultano più costosi? Noi il polo è aumentato qualcosa ma non del tutto diciamo si può ancora ragionare Quali prodotti si riscontra maggiormente l'aumento di prezzi? Sul pesce Sul pesce Il pesce insomma e insomma le verdure queste cose qua diciamo che comunque c'è un aumento dei prezzi ecco speriamo che non si vada oltre perché insomma con l'arrivo del Natale diciamo che è preoccupante la cosa tra l'energia e la spesa non so se accenderemo l'albero quest'anno non si può assistere impotenti a tutto quanto questo noi per esempio tutte le associazioni dei consumatori a livello nazionale abbiamo fatto una manifestazione davanti alle varie prefetture d'Italia a giugno e l'abbiamo chiamato pendole vuote dicendo che purtroppo le famiglie hanno le pendole vuote perché i pagamenti sono veramente tanti sinceramente ci aspettavamo che tutto il popolo ci accompagnasse nelle diverse piazze invece abbiamo avuto una delusione perché anche questa manifestazione che diciamo tentava di sensibilizzare le alte sfere andiamo avanti l'invio delle armi a Kiev e la compatibilità con i diritti della nostra Costituzione è stato il tema al centro del convegno che si è tenuto nella biblioteca Marx 21 a Bari sentiamo le parole di Gaetano Bucci professore associato di diritto costituzionale l'articolo 11 che ripudia la guerra e punta a costruire ordinamenti internazionali capaci di garantire la pace e la giustizia fra le nazioni è una norma precettiva il punto è che è stata una norma rimossa nel dibattito parlamentare nel dibattito politico eccetera la nostra Costituzione non è fatta da meri preamboli o da mere petizioni di principio ma da norme precettive che quindi devono essere applicate che dovrebbero obbligare i pubblici poteri alla loro attuazione la Costituzione è il patto nel quale tutti noi ci riconosciamo e quindi quando si crea una frattura con questo patto c'è anche una delegittimazione della classe di governo dei soggetti che noi abbiamo mandato a rappresentarci perché noi li mandiamo a rappresentare in quanto ci riconosciamo su quel patto e affinché essi diano attuazione a quel patto centinaia di bambini e ragazzi paresi stanno festeggiando la notte di Halloween la ricorrenza di origine americana è uno dei momenti preferiti dai più piccoli ma anche dai genitori allora vediamo il servizio di Giuseppe Bellino tutti pazzi per Halloween Bari è stata infestata da piccoli fantasmi streghe e scheletri in cerca di dolce e caramelle gruppi di bambini e ragazzi si sono ritrovati nel centro città per celebrare la notte delle streghe festività di origini americane che ormai è entrata a far parte della cultura italiana da via Sparano a via Argiro passando percorso Vittorio Emanuele tante le attività commerciali che hanno preparato caramelle e dolci di ogni tipo da consegnare ai bambini mascherati io ho tre figli loro ogni anno io li porto si divertono tantissimo e soprattutto io apprezzo molto che i commercianti baresi hanno si sono sempre sempre preparati e accolto benissimo i bambini e questo fa sì che la festa diventi ancora più bella la festa di Halloween è senza dubbio uno dei momenti più attesi dai più piccoli che indossando maschere e costumi trascorrono una serata all'insegna del divertimento una ricorrenza apprezzata anche dai genitori è una buona cosa i bambini si divertono e va bene così la cosa importante è che i bambini siano pieni di gioia anche perché il significato di Halloween in realtà è molto simile alla nostra festa è solo più antica è un pomeriggio passato in giro per i bambini è carino sono tutti vestiti si divertono per loro è molto carino loro ci tengono molto e aspettano per noi non lo so insomma comunque è simpatica restiamo in tema ma ci spostiamo questa volta a Cerignola dove appunto in occasione di Halloween Torre Alemanna ha aperto le porte alle famiglie e più piccoli collaboratori artistici e visite serali all'Ume di Torcia ce ne parla Nicola Saracino esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell'anno attraverso un laboratorio artistico e la visita serale all'Ume di Torcia il Borgo Stregato è il titolo dell'evento in programma Torre Alemanna Borgo Libertà organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità angoli corridoi affreschi stanze e torre del complesso oggi sede del Museo delle Ceramiche di XV-XVI secolo gli eventi sono promossi da Frequenze l'ente gestore del Polo Museale di Proprietà del Comune di Cerignola e le attività saranno animate in particolare dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale impegnate a Torre Alemanna stasera alle ore 20 è in programma la visita di Torre Alemanna alla sola luce delle torce a cui seguirà in una delle stanze del museo una suggestiva lettura che coinvolgerà i giovani partecipanti gioiello di storia architettura ed arte nel cuore della Daunia a soli 18 km di Cerignola la partecipazione al Borgo Stregato permetterà di conoscere maggiormente le bellezze storiche culturali e architettoniche di Torre Alemanna per costruire una cittadinanza attiva con cittadini partecipi alla vita della comunità inseriti e protagonisti del proprio contesto quotidiano ancora Halloween con un borgo antico di Putignano letteralmente affollato per la manifestazione scattata però la polemica tra un parro con gli organizzatori ci spiega tutto Francesco Russo l'atmosfera da paura a Putignano ieri sera complice anche la nebbia fitta scesa in città per la prima serata di Borgo Stregato la manifestazione giunta all'ottava edizione appuntamento fisso per celebrare la tradizione di Halloween maschere segni funebri mostri streghe hanno divertito grandi e piccini molto meno il parroco della chiesa del Carmine Don Mimmo Belvito che in un posto su Facebook ha stigmatizzato gli spazi bloccati dalle bancarelle che hanno impedito l'accesso in chiesa ai fedeli per la messa disturbata anche dalla musica troppo alta così come la difficoltà per un'ambulanza di raggiungere una donna investita gli organizzatori rimandano le critiche al mittente ribadendo che il sagrato fosse libero e che la musica è stata subito modulata per consentire la celebrazione sono toccato e dispiaciuto per quanto accaduto alla signora e accetto l'invito al confronto con il parroco per poter approfondire questi aspetti e nulla da parte nostra e tutti i partner per oltraggiare o mettere in difficoltà quanto esposto non si intende assolutamente creare delle criticità a una cittadina e al visitatore partecipe posso anche tranquillamente asserire che si crea anche l'infa economica alle attività di ricezione turistica e commerciali del territorio e adesso andiamo a Trani dove stamattina sono stati eseguiti per il comune i lavori per la sistemazione di alcune strade nei quartieri periferici sotto la stretta sorveglianza dei vertici dell'amministrazione Massimo Pillera nessun ponte per il comune di Trani non c'è tempo bisogna sistemare tutte le strade soprattutto nelle zone periferiche quindi oggi sul luogo del lavoro si è recato il vice sindaco assessore dei lavori pubblici Fabrizio Ferrante proprio per verificare l'andamento dei lavori queste sono strade importanti nelle zone periferiche della città nella zona Cappuccini per cui non c'è tempo da perdere e quindi anche oggi si evita il ponte si evitano le celebrazioni ma si va sui luoghi del lavoro proseguono gli interventi nell'ambito del programma strada per strada oggi siamo in via Cappuccini e attraverso la posenopera dell'asfalto miglioreremo la viabilità e la sicurezza non è il primo intervento che facciamo nella zona nel corso di questi anni ci sono stati altri ma sicuramente questo rappresenta l'intervento più importante più consistente e noi ci auguriamo più duratura nel tempo dopodiché ci sposteremo su altri tratti diari importanti per la città e contiamo di esaurire di definire tutto il programma di interventi nel più breve tempo possibile andiamo in salento rispolverare la costituzione seduti su una panchina l'idea è dello comune di copertino ce ne parla Fabio Serino comunicare ai cittadini l'importanza di essere difensori della costituzione questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di copertino nel salento che da qualche giorno ha deciso di ordinare e far posizionare davanti alle scuole particolari panchine sulle quali è stampato un articolo della costituzione italiana un progetto che la sindaca del comune salentino Sandrina Schito ha voluto dedicare alle nuove generazioni per ricordare in modo continuo e costante quali sono i valori sui quali si fonda la nostra repubblica le panchine con le scritte verniciate posizionate davanti ad alcune scuole scelte per un'iniziativa originale hanno sorpreso piacevolmente bambini ragazzi ed adulti anche quelli che hanno approfittato per rispolverare e riportare alla memoria vecchi concetti ormai dimenticati basterà accomodarsi su queste particolari panchine monumentali per imparare i fondamenti della nostra costituzione o per studiarla nuovamente un suggerimento è arrivato proprio dalla prima cittadina che ha promosso l'iniziativa comunicandola direttamente dalla sua pagina facebook micro interventi di bellezza su cui soffermarsi ha scritto la sindaca perché la cultura è il tesoro di una comunità numeri da record per la città dei Sassi ci trasferiamo in Basilicata anche per il ponte di Onissanti allora vediamo il servizio di mail a tritto su Matera il ponte di Onissanti dimostra il trend di crescita dei flussi turistici a Matera la conferma è arrivata dal tutto esaurito che si registra nelle strutture alberghiere della città di Sassi Matera ha risposto bene anche in questo ponte diciamo che anche le previsioni erano positive rispetto a questo periodo perché si sapeva che questa coda lunga dell'estate con questo clima mite avrebbe riportato Matera tra le destinazioni certamente più gettonate ci sono state il turismo anche in questo caso si è suddiviso in due parti abbiamo avuto moltissimi escursionisti ma da un punto di vista di presenza alberghiere devo dire che comunque c'è grande soddisfazione rispetto al periodo rispetto a questi due giorni di conseguenza il turismo culturale è l'unico che poi dopo non risente di stagionalità e non risente di mode è chiaro che le stagioni culturali non devono essere identificate soltanto con le stagioni di eventi ma devono essere identificate come dei percorsi che devono far rivivere tutto quel patos a tutti i nostri concittadini i numeri del ponte lasciano ben sperare anche per le prossime settimane per rafforzare la destagionalizzazione del turismo bene siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale non mi resta che ringraziavi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo giornata di martedì con una perturbazione che lambirà il nord ovest correnti umide nei quadranti occidentali e a nuvolamenti in aumento al nord e sulla Toscana ecco qui la banda nuvolosa che si muoverà da ovest verso est nel dettaglio possiamo notare di fatti qualche precipitazione attesa sulla Francia man mano delle piogge inizieranno interessare l'estremo nord ovest nel dettaglio ecco l'immagine dell'Italia con questa nuvolosità in accentuazione al nord ovest altrove ampie aperture del cielo anche al sud con temperature qui sempre in stile tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo grazie a tutti